E' stata dichiarata non ammissibile l'istanza presentata da Sicilia Fisch, l'unica società che aveva partecipato al bando del comune di Sciacca per l'affidamento in gestione del mercato ittico, sito nella banchina del molo di Levante del Porto. A decretare la non ammissibilità della proposta è stata la commissione presieduta dall'ingegnere Salvatore Gioia che si è riunita ieri per valutare la documentazione presentata dalla società. Verificata l'assenza del verbale di visita obbligatoria presso l'immobile oggetto di affidamento che era espressamente prevista nel bando, essendo l'unica offerta pervenuta, la gara per l'affidamento del mercato ittico di Sciacca è andata deserta. Tutto da rifare dunque per un immobile che è stato riqualificato con fondi della regione siciliana per circa 600 mila euro che hanno dotato al mercato ittico di tutte le apparecchiature necessarie al regolare svolgimento delle attività di vendita del pesce oltre all'adeguamento degli impianti. La struttura mercatale è stata anche dotata di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e una gestione sostenibile. Un bando, quello per l'affidamento in gestione del mercato ittico di Sciacca che era stato fortemente contestato sin dalla pubblicazione avvenuta nello scorso mese di ottobre, dalle cooperative della pesca che operano in città ma anche dalle associazioni regionali che si erano pure rivolte al prefetto di Agrigento chiedendo il blocco della procedura. L'amministrazione comunale aveva deciso nonostante le opposizioni della marineria di andare avanti e valutare l'unica proposta pervenuta quella della società Sicilia Fish che però non ha superato l'esame da parte della commissione di gara. C'è da capire adesso come intende procedere l'amministrazione comunale che prima di pubblicare il bando aveva avuto diversi confronti con le cooperative della pesca di Sciacca per una eventuale gestione condivisa della struttura che però non aveva prodotto alcun risultato.